questo è un test di attenzione che si fa con le quattro reggine ok abbiamo la reggina di cuori la mettiamo qui abbiamo la reggina di fiori la mettiamo qui la reggina di quadri poi tu dovrai eseguire la reggina di picche ok bene allora se la reggina di picche la mettessi per esempio in un posto isolato come per esempio nella mia tasca per te serve troppo facile eseguirla cioè sta qua lì ok quindi voglio complicarti la vita prenderla e metterla per esempio qui ma così sarebbe troppo semplice e quindi te ne mescolo tu dovrai trovare la reggina di picche tra queste quindi tra le quattro reggine la reggina di picche allora se ho visto bene dovrebbe essere qui qui si guarda è incredibile ma come 5 è bravissimo infatti le reggine sono tutte scomparse le reggine e le donne me le tengo tutte per me